Alla vista dei carabinieri hanno lanciato mezzo chilo di cocaina dal balcone. Per questo motivo due pregiudicati di Biceglie di 40 e 24 anni sono stati arrestati in fragranza dai militari per detenzione ai fini di spaccio. Altre due persone, i proprietari dell'appartamento dove è stata trovata la droga, sono stati denunciati. I carabinieri che da giorni avevano notato un sospetto andi rivieni di tossicodipendenti dall'abitazione. Poco prima di entrare per un controllo hanno visto il lancio dell'involucro dal balcone. All'interno c'erano 535 grammi di cocaina. Durante la perquisizione è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente cellulari. I due proprietari, anche loro già noti alle forze dell'ordine e sopraggiunti a perquisizione in corso, sono stati denunciati in stato di libertà mentre per i due pusher si sono aperte alle porte del carcere di Trani.